Che lick! Ben ritrovati i miei cari avventori del Lugiona Barcaccio. Siamo al giorno dopo di Juventus-Bologna terminata 2-0 in favore degli uomini allenati da Andrea Pirlo. Che cosa quindi ci lascia a mente fredda perché questa mattina andiamo quindi a fare in questo video considerazioni a freddo di quello che ci ha lasciato la partita di ieri. E ci ha lasciato come dicevo ieri a caldo diverse considerazioni che è bene e utile fare. Quindi miei cari avventori prima di iniziare vi armento tasto rosso clic iscriviti al canale del Lugiona. Fallo conoscere a tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu va bene. Mandagli un whatsapp scriviglielo su facebook su tutti i social se sei iscritto a dei forum condividilo anche su quelli. E lascia sempre un mi piaccino ai video del Lugiona Barcaccio. Allora a parte le carcele ferite perché usciamo per la nonna volta in questo campionato con 0 punti va bene. Quindi anche lì anche questa è una cosa che va registrata. Per carità giocavamo contro la Juve però è anche vero che in questa prima parte di campionato perché si è concluso il girone di andata e vi ricordo oggi pomeriggio attivate il campanaccio perché uscirà le mie considerazioni su questo primo scorcio di campionato del nostro Bulagna. Ok? Quindi tutte quelle considerazioni rimandate al video di oggi pomeriggio. Quello che stavo dicendo è che quello che ci lascia appunto è non aver preso punti con nessuna grande squadra. Inter, Milan, Lazio, Roma, Napoli, Juve. Mettiamoci anche l'Atalanta. Va bene. L'Atalanta appunto abbiamo pareggiato con l'Atalanta. Abbiamo fatto un punto. Abbiamo fatto un punto contro tutte queste squadre. Veramente troppo poco a fronte anche di prestazioni deludenti contro altre squadre che invece avrebbero dovuto essere nettamente alla nostra portata. Adesso mi viene da pensare due su tutte. Ad esempio Benevento e Spezia dove abbiamo perso 5 punti se non erro. Quindi, insomma, e vabbè, comunque quello che ci ha detto la partita di ieri. Quello che ci ha detto la partita di ieri è quello che ci andiamo a raccontare ormai da non so quanto tempo e da quello che io già da quest'estate andavo a predicare nel deserto facendo i cartelloni. Ok? Ci vuole una punta. Com'è che la dirigenza non l'ha capito? L'avrà capito dopo la partita di ieri. Perché anche l'aver fatto giocare Barro in posizione da punta centrale in queste ultime due partite non vorrei che sia anche un'indicazione da parte anche della dirigenza che è andata a parlare con Mielovic e gli avrà detto guarda, si miscia che noi Barro all'origine te l'abbiamo preso per farlo giocare da punta. Noi eravamo convinti di aver preso quella punta da 20 milioni perché comunque Barro ci è costato praticamente quella cifra ci è costato un polmone Musa Barro. Ok? Musa Barro ci è costato non quasi 19 milioni 13 più bonus. Ok? E vedendo quello che dopo tutto dopo una stagione e mezzo Musa Barro sta portando a Bologna che lasciatemelo dire a mio modo di vedere ha anche bloccato la sua crescita. Ormai Musa Barro è un caso lo so che purtroppo sono rindondante per questo argomento ma lo devo essere perché qui il compito di questo canale è anche cercare di aprire gli occhi laddove si riesca a farlo un po' prima rispetto al tabellino di marcia. La dirigenza si deve rendere conto che abbiamo un problema abbiamo due problemi anzi, due problemi. Il primo problema è alla luce di tutti ormai manca una punta, manca una prima punta stiamo giocando un campionato praticamente senza punta centrale perché stiamo affidandoci a Palasso che di anni ormai ne farà 39, tra poco fuori dai coppi secondo me e ieri nella partita contro la Juve si è vista la mancanza di una punta. Avete visto a Quadrado che a momenti ci stava per fare un super goal davvero bomber di aria di rigore ci manca quella posizione lì ci manca una presenza costante in aria un giocatore che attacchi la profondità che faccia sportellate che sia dominante ci vuole un giocatore dominante là davanti lo capiamo o non lo capiamo? E lo capiamo che la soluzione non può essere un giocatore, adesso ne dico uno tanto per dire non può venire da un Zywiderski Zywiderski non potrebbe mai essere la soluzione per risolvere il problema goal qui a Bologna ci vuole un giocatore che i goal li sappia fare che sappia già fare a sportellate perché abbiamo già troppi giovani ci abbiamo anche già vignato che adesso stiamo facendo giocare come ala sinistra per far giocare Baro punta centrale non ci serviranno altri giovani ci vogliono giocatori di sostanza che ci possono far emergere già oggi perché altrimenti cadiamo in più problematiche perché abbiamo la problematica della punta e la seconda che vi stavo dicendo per non perdere il filo del discorso c'è un problema Musa Baro ragazzi c'è un problema Musa Baro non so se avete notato ma chi giochi punta o chi giochi alla sinistra ok il suo role naturale ma c'è un problema perché si sta involvendo il ragazzo non sta più non sta più crescendo in termini di prestazioni anche in termini di goal cioè l'anno scorso ne ha fatti addio per carità c'è ancora tutto un campo metà campionato da giocare mi può smentire però insomma ragazzi mi sembra che sia veramente sotto tono per ora ha fatto tre goal di cui di cui due in un'unica partita e vi voglio ricordare che tra l'altro sono tutti goal balistici cioè sembra che o Musa Baro riesce a fare il goal della stagione o Musa Baro non segna io vorrei anche vedere fargli fare dei goal cosiddetti semplici ci vogliono anche quei goal di posizionamento d'affiuto del goal di rapina Musa Baro non ce li ha perché Musa Baro non è quel tipo di giocatore e non vorrei e qui mi allargo un po' nel discorso che su Musa Baro lo so che parlare dopo qua è semplice ed è anche il motivo per cui cerco di farlo adesso un po' prima magari rispetto a quando apriremo magari gli occhi io spero di sbagliarmi ragazzi spero di sbagliarmi ma incomincio a pensare che su Musa Baro ci sia stato un po' troppo ottimismo ok e che forse 19 milioni tutto sommato quel giocatore lì non è che magari gli valesse veramente e quindi cerchiamo un attimo anche di capitalizzare al massimo quello che riusciamo a fare con lui e io vi dico una cosa forte io a giugno se c'è da sacrificare dei giocatori io un pensiero a Musa Baro se ancora il Borussia Dortmund ce lo viene a chiedere io lo faccio io lo farei perché Musa Baro non è quel giocatore secondo me che ci potevamo attendere che potesse essere e perché non è poi neanche più giovanissimo ragazzi gli anni passano e anche per loro uno a 23 poi uno a 24 e poi un batter d'occhio uno a 25 prendete Balotelli che sembra che sia ancora giovane ragazzi a 30 anni suonati uno mai una carriera rovinata quindi adesso per carità non sto parlando di Musa Baro in questi termini però ecco voglio un attimo accendere gli occhi e le orecchie della nostra dirigenza e capire che qua bisogna intervenire e andare a prendere qualcuno una punta ma io quando dico di andare a prendere una punta per carità adesso sarà anche difficile perché siamo al mercato di gennaio e al mercato di gennaio le punte forti non le prendi siamo d'accordo ok quindi anche lì starà adesso a prendere un Sanabria uno che poi alla fine ci porterà 4-5 gol se ci va bene per carità è meglio farlo che non farlo visto che è considerato che magari si riescano ad ottenere dei prestiti secchi con diritto di riscatto e quindi è meglio averli quei 4-5 gol piuttosto che non averli però quello che voglio dire è che a noi serve un giocatore una punta da 15 gol e per avere una punta da 15 gol ragazzi non mi stancherò mai di dirlo non si può andare alla Lidl all'Inns a prendere ok un attaccante in saldo perché quei tipi di attaccanti che trovi all'Inns e alla Lidl c'è un motivo per cui stanno su quegli scaffali ok bisogna alzare il tiro va bene se vuoi un giocatore giovane lo puoi andare a prendere giovane perché diventa futuribile ma devi anche andarci a smenare 20 milioni se tu vai a prendere faccio un nome per farli tutti un Patsondaka va bene allora magari è anche più possibilità che un giocatore del genere possa veramente emergere viceversa se mi vai a prendere uno Swiderski si fa difficile ragazzi si fa difficile fermo restando che se fosse per me io andrei a fine stagione come vi ho già detto a suo tempo mi rendo conto che è un obiettivo quasi improponibile visto e considerato anche e soprattutto la diciamo l'ambizione l'ambizione di quello che sta mostrando la dirigenza ma io andrei su un obiettivo come non so un Kramaric andiamo a prendere quello lì ci vuole un Kramaric per risolvere l'attacco del Bologna basta promesse ci vuole qualcuno di sicuro te vai a prendere dall'Offenheim un Andrej Kramaric tanto per fare un nome e te così risolvi veramente la quota gol a Bologna non la risolvi altrimenti la partita di ieri ci ha detto che serve un attaccante penso che ormai anche chi aveva dei dubbi ora non ce li abbia più ci serve un attaccante perché altrimenti Bologna gioca anche bene ma però i punti non li fa e andando a vedere quello che ha detto velocemente Mijajlovic in conferenza post match ha detto che la Juve ha vinto con merito ok che abbiamo preso sì gol evitabili ma che ce ne potevano fare comunque altri 3 o 4 e che sia Sesni ma anche Skorupski ha fatto delle parate importanti che abbiamo fatto un primo tempo timido che non abbiamo alzato i ritmi ok e ci siamo abbassati ai loro alla loro intensità che è stata bassa e invece noi dovevamo mordergli le caviglie e non l'abbiamo fatto dice nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e fa riferimento un attimo alle posizioni dei mediani perché comunque McKennie che era stato messo seguito a Duomo da Svanberg a quanto pare non ha assortito gli effetti sperati nel secondo tempo dice abbiamo cambiato ma siamo stati come una bella ragazza che non balla bella ma non balla e quindi così non si va avanti specialmente con la Juventus contro la Juventus non si va da nessuna parte dice loro hanno avuto maggiore qualità sono stati più concreti ok e quindi questo ha fatto la differenza oltre al fatto che sono dice Mijalovic ovviamente più forti di noi e qui insomma ha ragione però aggiunge dovevamo crederci osare di più essere più cattivi sotto porta con la convinzione di buttarla dentro e qua mi viene anche a pensare a quell'occasione di Soriano dove non ci arriva che magari poteva fare qualcosa di più ok non siamo stati abbastanza abbastanza cattivi su Barro a domanda dice addirittura non è giudicabile perché lui è un'ala e non è una punta e sta imparando adesso ok il lavoro da Palacio che si ringrazia a questo punto perché sembra che Palacio in due tre mesi debba insegnare a Barro a diventare una punta ok però insomma dice 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 questo Miailovic dice questo e quindi c'è ramarico serve ben altro ok e la dirigenza si sveglie perché altrimenti qua come vedremo nel video che pubblicherò oggi pomeriggio se non facciamo qualcosa rischiamo poi di essere risucchiati in zone che è meglio non essere risucchiati e qui mi taccio perché rimando al video di oggi pomeriggio quindi ragazzi rimando oggi pomeriggio qualsiasi considerazione su quello che è stato il primo scorcio di campionato del Bulagna va bene mi cari eventori fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate il giorno dopo di questa partita se serve una punta o no se appunto ne ho ben donte di dire ciò che ho detto attivate il campanaccio pastorale perché appunto usciranno video pesanti in questa settimana e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar e noi ci sentiamo